Sei pronto per un nuovo episodio di Uomini e Donne? Dopo l'intenso confronto tra Mario Cusitore e Ida Platano, che si sono detti addio nel programma, è arrivato il momento di conoscere gli sviluppi della storia tra Mario Verona e Milena. Il Cavaliere e la Dama del Trono Over si frequentano da diversi mesi, ma sembra che ci siano delle divergenze sui sentimenti che provano l'uno per l'altro. Milena è molto legata a Mario e vorrebbe avere l'esclusiva del suo cuore, mentre Mario, pur dimostrando interesse, non si sente ancora pronto a dichiararsi innamorato e desidera continuare a conoscere altre persone. Durante l'ultima puntata, Mario ha spiegato di non voler rinunciare a Milena, nonostante sia aperto ad altre conoscenze. Ha ammesso di provare qualcosa per lei, ma di non sentire ancora abbastanza per dichiararsi completamente innamorato. La situazione si è complicata quando Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova la relazione tra Mario e Milena. Nonostante l'interesse del Cavaliere per la Dama, sono state fatte scendere due ragazze che però non sono riuscite a colpire il cuore di Mario. La conduttrice, con la sua solita ironia, ha proposto di far entrare una terza ragazza per vedere la reazione di Mario. Quest'ultimo ha accettato di conoscere la nuova partecipante, ma Maria ha rivelato che si trattava solo di uno scherzo per testare la sincerità del Cavaliere. Gianni Sperti ha esortato Milena a prendere una decisione immediata sulla loro relazione, mentre Mario ha dovuto affrontare il giudizio del pubblico presente in studio. La situazione si è fatta sempre più tesa, con Milena che ha chiesto chiarezza sulle intenzioni di Mario. La puntata si è conclusa con molte domande in sospeso, e con l'incertezza sul futuro della storia tra Mario e Milena. Sarà amore vero o solo una semplice infatuazione? Non ci resta che aspettare il prossimo episodio per scoprire come andrà a finire questa complicata storia d'amore a uomini e donne. Resta sintonizzato per non perderti nessun dettaglio su questa avvincente vicenda.